Ciao ragazzi, riaccomi sul canale e oggi siamo qui per spacchettare un nuovo pacco Avon Allora, ho fatto un ordinino della campagna di agosto è molto piccolo perché al momento appunto ho un po' meno richieste perché molta gente è in ferie e comunque ha già fatto scorta però è sempre meglio che niente, c'era una cliente che aveva bisogno di alcune cosine quindi ho mandato e vi faccio intanto vedere il cartaccio così vediamo che cosa è arrivato qui c'è la fattura ma non penso di interesse a parte i prezzi che adesso vi dirò poi è arrivata una cartolina del Far Away Beyond che spiega un attimino quello nuovo e tutti i Far Away disponibili poi è arrivata un'altra cartolina con delle offerte di set questo a 26,99 con tutti questi prodotti e appunto abbiamo illuminata, il profumo, formato viaggio, il siro idratante alla menta e aloe poi la lozione solare con protezione 30 Avon Care 150, lozione corpo al burro di cacao poi crema da giorno, protezione 25, new ultimate, formato prova e bagno schiuma al ferro di ciliegio mentre di qua a 10,99 abbiamo tre prodotti che contiene appunto la maschera viso notte beauty sleep plan e spa due gel cremanti occhiaie system new clinical e il rossetto matte legend quindi questo qui a 10,99 per chi fosse interessato se volete ordinare online e non sapete come fare contattatemi che potete ordinare direttamente sul mio shop online e ricevere i prodotti direttamente a casa tramite corriere se fate un ordine di almeno 29 euro la spedizione è gratuita altrimenti pagherete la spedizione come tutti gli ordini online penso fosse sui 3,50 euro comunque poi adesso ci sono anche delle promestive che vi danno 10 euro di sconto su una spesa mi pare di 55 euro e 5 euro su 44 mi pare una cosa del genere comunque se volete più informazioni e volete ordinare scrivetemi qua sotto poi è arrivato appunto la volperte con le anteprime della campagna 3 di ottobre poi abbiamo l'outlet esclusivo scusate il casino ma abito sulla strada in centro città poi sono arrivati un po' di cataloghini che ho ordinato di settembre mi sono messi avanti eccoli qui ci sono un sacco di cose nuove sicuramente quindi andremo a vederle ne ho ordinati 4 sì questa volta ne ho ordinati solo 4 però poi vediamo eccoli qui poi c'è la mia copia e andiamo a vedere i prodotti allora mi hanno ordinato questo che è la Vonsensis quindi gel doccia da uomo Energy da 250 ml di prodotto allora i prezzi di questo ve lo dico subito è costato 1,99 euro quindi una pifferata perché c'era la promo l'altro è Senses da donna questo è il Pre-Shield Shower Oil miele e gardenia eccolo qui molto bello anche il pack 250 questo qui è costato 2,50 euro quindi praticamente ne ha presi 2 e ha avuto la promo sul secondo mi pare perché appunto costano 2,50 poi mi ha ordinato dell'Avon Naturals la cliente questo qui che è lo shampoo 2 in 1 balsamo all'aloe macadamia da 700 ml di prodotto eccolo qua lui è costato 4,50 euro ok poi cosa abbiamo mi ha ordinato un set questo qui delle new allora formato da questa crema questa è la crema all'acqua new hydra pro vita vita D quindi questa crema qui all'acqua e poi questo che sarebbe un siero mi pare sì siero al retinolo da 30 ml di prodotto la crema è full size da dove è scritto rega ah 50 ml e il siero è abbinato allora la crema costava appunto 10 euro e 10 aspettate che vi dico dal catalogo la promo perché lì vedo i prezzi divisi ma in realtà dalla campagna appunto di agosto c'era la promozione quindi adesso magari se la trovo ve lo dico facciamo prima il set il retinolo siero più crema a 26,99 euro sì se volete ordinarlo vale per tutto agosto questa promo quindi molto valido anche perché le new è una linea molto buona e in più avevate in omaggio un campioncino che è questo qui che è un campioncino di plumping shot aspettate un attimo perché non ho capito che cosa sia non c'è la traduzione fiala campioncino in omaggio ma che cos'è? ma non è spiegato forse è questa sì skin reset praticamente sono queste fiale qua in formato prova praticamente aiuta a migliorare i risultati oltre all'applicazione della crema e contribuisce a restituire collagene alla pelle quindi questa qua appunto vendono le fiale da 7 pezzi a 21,99€ e quindi in promo c'era questa in omaggio poi mi sono arrivati i tre campioncini di profumo in omaggio vediamo il faraway beyond quello nuovo appunto direi sì quindi i tre campioncini del nuovo profumo di faraway e poi ultimo prodotto non per importanza è una cosa che ho ordinato io perché io al momento non ho necessità di prodotti sono piena di roba però mi serviva questo di scorta dato che è una cosa che utilizzo molto in estate e adesso ve la mostro ed è praticamente la penna correttiva per lo smalto con acetone questa qui io mi trovo molto bene a correggere lo smalto soprattutto ai piedi perché non sono super precisa e se faccio anche qualche piccola sbavatura con questa è perfettamente si toglie tutto insomma quindi mi sto trovando molto bene la riacquisto sempre questa vi dico il prezzo direi 5 euro fatemi vedere 5 euro e 99 la penna e niente questo è tutto l'ordine di agosto per adesso sperando che magari arrivi qualche altro ordinino in realtà ho un'altra cliente nuova che mi ha ordinato solo una cosa che dovrò mandare appena riuscirò adesso avendo mandato quest'ordine me l'ha chiesta dopo non sono riuscita a inserirlo però appena potrò appunto manderò un ulteriore ordinino direi comunque vi volevo solo far vedere le novità dato che il video è molto breve e vi faccio vedere che cosa uscirà appunto in anteprima allora un siero renewal power con 7 benefici pluripremiato proteinol quindi delle new lo troverete a 19 euro e 99 quindi questo siero qui poi qui ci sono delle cose ecco adesso iniziano a saldare qua fuori quindi non si sente niente aspettate un attimo che purtroppo stanno facendo dei lavori qui giù in piazza quindi si sente un gran casino c'è un po' meno luce chiudendo la finestra però si sente meglio allora stavo dicendo che oltre a quel siero usciranno queste nuove armonie floreali e sono Avon Artistic Wisteria Sublime e Ninfea Lumière allora questi sono i due profumi in questione e questi profumini sono floreale legnoso muschiato notte olfattive di glicine cappuccino morbido muschio e l'altro è floreale acquatico fior di loto peonia e legni biondi li troverete a 25 euro l'uno e poi per quanto riguarda il make up uscirà un primer volumizzante ciglia Lash Supreme a 6,99 euro con olio di cheratina e olio di ricino quindi questo qui perfetto e lo troverete appunto a 6,99 poi uscirà un mascara Unlimited Drama con uno scovolino appunto curvo tenuto a 24 ore volume fino a 6 volte di più ed è questo questo lo troverete a 8,99 euro poi di incanto uscirà questa linea quindi lo scab per il corpo la lozione corpo lo spray per il corpo e il profumo bellissimo eccolo qui allora io di incanto non ho acquistato mai nulla però hanno usato alcune cosine di un campioncino e anche dal catalogo e mi piace veramente tanto sono delle profumazioni buonissime allora lo scrub costa 7,50 euro poi abbiamo la lozione corpo 5,50 da 250 ml lo spray 5,50 e 12,99 il profumino da 50 ml le note se ci fossero ve lo dico note di violetta delicato buco floreale e reggizzanti frutti a volte in caldo legno di cashmere quindi questa è una nuova linea poi troviamo crema doccia al latte di cocco e lampone crema doccia al latte d'avena e amido di mais e crema doccia al latticello e cacao della sensis 3,50 euro l'uno da 400 ml di prodotto molto carini eccoli qua questi nuovi da 400 poi uscirà una crema corpo per pelle molto secca a bunker più questa qui a 4,99 nel bocciano maxi un bubble bat alle spezie con cannella arancia rossa a 3,99 da mezzo litro questo qui e poi un altro al soft pink quindi giardino di fresche rose 3,99 poi per quanto riguarda l'abbigliamento troveremo un po' di cosine tipo i lupetti o manica lunga lunga cashmere cotonella 29,99 l'uno lo trovate in vari colori tra cui nero nudo nero e grigio e grigio e blu quindi questi sono appunto i lupetti la cotonella fa dei prodotti buoni perché il cotone è stupendo mia sorella ha preso camicie da notte e sono veramente bellissime poi abbiamo dei leggings da bambina termici calzitali va dai 6 ai 12 anni con età e a 29,99 quindi questi qui e da donna similpelle 29,99 poi abbiamo i collant modellanti 40 denari 12,99 effetto plus sharp poi troviamo un body modellante body illusion a 24,99 e poi gli shorts modellanti a 14,99 e sono appunto questi qua poi pantofole e ne troviamo due questa a 14 euro da donna e da uomo a 11,99 quindi queste due qui poi troviamo un diffusore di aromi questo qua è alimentato sb ed è inclusa lo trovate appunto a 25,99 cambia colore molto carino poi troveremo un set tomorrow quindi come il profumo e ci sono appunto queste candele e il profumo ambiente con gli stecchini questi qua molto carino 15,99 tutti e tre poi un po' di bigiotteria troviamo delle collane varie cosine orecchini un set e ve li faccio vedere velocemente eccoli qua poi abbiamo uno scialle rosa 100% acrilico 18 euro poi abbiamo una borsa organizer per i trucchi molto carina a 12,99 che è questa qui e poi troviamo una borsa nera 26,99 e un'altra un po' più sportiva a 19,99 quelle qua sono un sacco di novità comunque poi tornando al catalogo casa comunque ci sono alcuni completi velocemente questi qua poi ci sarà una lampada decorativa a led con un supporto in cemento che funziona a batteria e all'interno c'è una pianta finta carina 10,50 euro fatta così molto di design poi ci sarà l'anello a led per farsi selfie da attaccare al cellulare quindi illumina eccolo va attaccato proprio in alto e questo costerà 12 euro poi un set di 5 contenitori da utilizzare in casa anche in bagno per dividere un po' i prodotti nei cassetti 11,50 euro grigi sono praticamente eccoli poi una tenda questa tenda a 29 euro e ci sono anche i cuscini abbinati a 25 eccoli qua questo poi troviamo un vassoio con piedini pieghevoli a 29 euro di bambù un bicchiere no set di bicchieri da vino 4 bicchieri 28 euro poi set di 6 utensili da cucina a 22,50 set di 2 padelle a 45 poi abbiamo dei contenitori alimentari a 30 euro in silicone riutilizzabili e questi sono i prodottini azzurri poi c'è lo sbattitore manuale che non serve assolutamente a niente e ingranditore per smartphone che cavolo serve ingrandisce tra volte lo schermo dello smartphone vabbè e questo qua allora il prezzo è di 10,50 lo sbattitore a 15 euro poi c'è un set guanto presina e set di 3 stampi da cucina a 30 euro quindi il guanto e la presina a 7,50 poi c'è la tovaglia a 32 euro eccoli qua e basta ragazzi qui questo è tutto questi sono i prodotti novità che usciranno nella campagna di ottobre di campagna 3 quindi siamo avanti perché appunto adesso siamo ad agosto poi ci sarà questa e e niente quindi questo è tutto spero che il video vi sia piaciuto spolliciate mettete un bel like iscrivetevi se non l'avete ancora fatto per non perdervi i prossimi video se avete qualche info volete ordinare i prodotti Avon scrivetemi qua sotto che vi dirò come fare è molto semplice online se volete sfogliare il catalogo vi posso mandare il link quindi ve lo potete sfogliare a casa e niente un bacione e al prossimo video ciao ciao